Ciao a tutti ragazzi, sono Ren e benvenuti in questo nuovo video di Scania Train Driving Simulator Allora, ve l'avevo detto, avrei iniziato questa serie e direi di iniziare subito, creiamo un nuovo profilo questo qui era il mio di 40 anni fa voglio giocare a flying, sì, sì, non fa niente nome ok, colore preferito del camion metterei azzurro qui da sinistra, crea profilo perfetto, opzioni, direi di andare subito su la tastiera no, cosa dico, audio, basterà un po' il volume generale tastiera di metterla istantanea con l'F11 con l'F10 registro e adesso vi faccio un po' vedere come come io ho messo vabbè, nessuno perché non voglio fare come l'emotor acceso, sì suggerimenti di dire se no italiano cambio ad H controller, metto il mio 27, volante, ok, vi faccio vedere un po' come lo setto io per questo allora, asse dello sterzo, questo ok, ho preso i 900 gradi, perfetto acceleratore, questo freno, questo invertito funzione, questa poi la risoluzione giusta, si, ti stira direi che avvia, spegno il motore, metterei questo freno a mano, metterei questo freno a motore, non lo mettiamo dal gioccio di moto, metterei questo qualche gioccio di moto, anche questo cerchia somministra questo, cerchia destra questo poi, cerchia una cosa veloce, segnate le rimarge nessun modo, questo pari anabaglianti, mettiamo questo, luci abbaglianti, slash abbaglianti, metterei questo perchè mi sto pulire a scuola per scherzo l'acson, mettiamo questo mettiamo questo terry style noc, risposto, mettere questo scottore di modalità di puliziazione, questo poi, poi, poi infosfida, mettiamo questo ok, controllo telecamera, ok lo mettiamo questa poi in uguale posizione e in sei mettiamo questa e questa e questa perfetto, finito, adesso possiamo iniziare, bisogna iniziare se mi facciamo la vida pericolosa sulla strada della morte anche se faccio un po' di incidenti ragazzi se poi magari o me li recupero per conto mio o qualcosa del genere, intanto se si aspetta male il G27 si è messo già male col force feedback ok la strada della morte non mi interessa ok spero che sia partito direttamente nemmeno partito con i 900 gradi un po' la prima posto opzioni ok 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 scusate ora siamo a posto ok, visuale interna eh no, perchè non c'è la data non utilizzate eh, riparti no, per esempio ESC sì, riparti allora direi di togli assoluto questo di mettere questo togliamo questo qui purtroppo c'è solo il cambio in uno strano diciamo una dacca quello che mi piace ok ecco 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 io sto certo di non fare i cilindri ma se li faccio amm io ecco 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 Non riesco a arrivare a luce. Non sento tranquillare, sicuro. Non sento mai un incidente in questo tempo. Non dovete tranquillare, forse. No, no. Dai, per un po' di una piazza. Non sento sicuro. Non sento sicuro. Un po' di una. Un po' di una. Un po' di una. Un po' di una. Non c'è un po' di una. Un po' di una. se riesco a mettere la costa ehhh controller intorno di qua sono diversi ok ma non posso ma non ci trovo oh no non ci trovo per lì ok 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 ecco il microfono cercherò di fare video da un quarto d'ora 20 minuti massimo di uno non credo in 10 minuti se non è un po' che ce l'ho da parte non è che tipo di musica faccio una posizione puntata così quelle che faccio faccio se ne faccio meno se ne faccio di più l'importante è impiegare il tempo con le disensioni quindi non sono fatto una collisione con la pietra non mi ricordo davvero mamma di più come si può questo video quindi ok se ne faccio io non mi ritengo per caso che lei già giocata qui si è già esperto no tipo io ho rimasto alla boom giunto zero adesso ho scaricato la pace tipo che mi sono delle cose belle non so 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 ho pensato un attimo che guarda dopo ho messo il selettore è anche su terra piena 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 allora fai retromarcia qui riva del fiume già non mi piace questo tavolo e lì c'è il trovato che ho fatto ok vediamo di partire eh sì mi interessa più me lo lascia vedere prima eh se io accendo la salta lo stesso adesso allora togliamo questo allora ah non hai qua tastiera opzioni eh controller così eh cambia la tax magari di tipo 1 vediamo ah selettore 1 io metterei un tasto con un minuto questo non sento te sì ok ok oh no se poi mi piace questo è l'esterno utilizzato quando non ricominciare java eh riparti sì così comando tutto il 27 se lo posto ok questo questo poi esterno entro marcia perfetto vediamo di partire il secondo ciò dovrebbe farsi sì tipo dovete prendere l'acceleratore per alcune ore poi forse parte vediamo la funzione come una nuova da un poco reale e comunque quindi ho avuto la simulatura V voglio tipo di cambiare un po' il sistema a quello di ho avuto la simulatura perché è molto direttamente poi cioè ora avevo la funzione schiacciata si stava per spingere sto tenendo la funzione schiacciata si spingere non so ma la funzione non so non so ok non so guarda se magari tipo c'è una zona morte della funzione che cattino ero mai vestito forse me lo facevo ah eccolo qua zona morte oddio via tutto un freno uno 2 2 2 3 4 5 7 4 4 i g Grazie a tutti. 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 Okay. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.